Le migrazioni a livello globale coinvolgono 244 milioni di persone. Il rapporto conferma che l'insicurezza alimentare rappresenta molto spesso il fattore decisivo delle migrazioni. Il rapporto conferma la violenza quando le persone sono hungry, il rapporto conferma la migrazione. Per ogni 1% di incrociamento nel fattore c'è un 2% di incrociamento nella migrazione. Oggi il 80% delle nostre imprenditori sono conflitti di mani. Sono convinto che siano due le parole chiave solidarietà e responsabilità. L'Italia intende fare la propria parte finanziando bandi della cooperazione che consentano alle organizzazioni non governative di migliorare le condizioni di vita di queste persone a cominciare dai centri di accoglienza libici. È necessario un più forte sostegno all'economia dei paesi che ospitano grandi comunità di rifugiati e migranti. In the World Food Programme, yes, we may feed 80 million. But what we are going to do with every child, our hope is for every child that we're feeding, we want them in an educational program. For every beneficiary that's an able-bodied person, we want them in a development program. Riconoscendo che l'Europa e l'Africa sono su un sentiero comune di crescita e di sviluppo, capiremo che investendo in Africa risolviamo problemi europei.